Ok, ecco qua. Ma come fai a dormire con queste luci? Di che cosa hai paura? Io non vedo niente. Ok, controllo mostri completato. Ok, ecco qua. Ok, ecco qua. Esiste da sempre, secondo me. Nascosto. Nell'oscurità. Sono solo quei terribili mostri che pensi che si nascondano sotto il tuo letto. Non è reale. Che cos'è? È la cosa che viene a prendere i tuoi figli quando volti lo sguardo. Tu almeno mi credi. Vero. E' la cosa che viene a prendere i tuoi figli quando va a prendere i tuoi figli quando va a prendere i tuoi figli quando va a prendere i tuoi figli.